Siamo venuti all'ospedale infantile di Alessandria e abbiamo trovato i clown dell'associazione Marameo e in particolare Spirola, Fatagaia, Gironzella Eh Gironzella, allora Fatagaia ci racconti cosa fate qua con i vostri addobbi, con queste splendide ghirlande Allora oggi siamo qua per sostenere Fondazione Ospedalette, c'è un evento che comporta la presentazione di un progetto Ma voi cosa fate? Cosa fate i clown? Noi veniamo a portare un momento di allegria e di svago ai bambini nel fine settimana Perché per loro è pesante l'antigenza in ospedale E quindi noi al sabato e la domenica veniamo a trovare quei bambini ricoverati E ci divertiamo un po' con loro, trasformiamo un momento di spensieratezza, di gioia E lasciamo tutti i nostri sorrisi ai nostri pallucci Io so che lasciate sorrisi ma portate a casa anche delle grandi esperienze e delle grandi emozioni Assolutamente, diciamo sempre che tutto quello che noi doniamo ci torna indietro ma raddoppiato, triplicato, altro che E allora buon lavoro e buon Natale, buone feste, buone feste molto molto colorate E vive i clown Marameo, marameo